Iniziere una tappa del giro, la tua prima tappa in montagna con la maglia tricolore, è un sogno? Maglia tricolore e ganando nel giro? È un sogno tutto il giro, diciamo che devo ringraziare la squadra perché veramente mi ha dato l'opportunità sia di passare nel World Tour sia di preparare al meglio questo giro e poi oggi l'opportunità Non ci credo, ma devo ringraziare veramente tutti, ringraziare ai miei compagni, Marco Pinotti e tutti Non ci credo ancora, come ha gestito il finale contro Pinotti? Ho cercato di stare a ruota, penso che una occasione così mi capitase poche volte nella vita Ho cercato di stare a ruota e poi nel finale giocarlo in volata, sperando di avere un po' di più E' stato un po' di più e avere un po' di più E' stato un po' di più, diciamo che quando si è in pochi si spera sempre che abbia meno Quindi eravamo io e lui avevo 50% di possibilità e niente... E' stato un po' di più 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 erano le parole del ganatore della tua 18 di questo giro di Italia 2023 Filippo Zanna Ahi sta la fotografia la imagen dove bate a Tivò Pinotti in la meta Tivò Pinotti che arrancò primero però Filippo Zana si è trovato un po' più forte, con più forza e pudo igualar e sobrepassar a Thibaut Pinò che già lo ha intentato due volte in questo giro di Italia e non ha potuto trovare la victoria Filippo Zana le saca la victoria del bolsillo a Thibaut Pinò lo único bueno è che Thibaut Pinò toma la camiseta della montagna Filippo Zana gana la etapa con 4 ore 25 minuti e 12 segundos in la seconda casilla entra Thibaut Pinò con il mismo tempo recordiamo che questi corredori facciano parte della escapata la escapata del dia e Warren Barguil entra in la tercera casilla a 50 secondi 50 secondi del ganador il quarto Deryl G a 1 minuto 3 e in la quinta casilla Aurelien Paret Pintrein a 1 minuto 24 così che il campeone italiano se destapa con una victoria in questo giro di Italia 2023 edvedibile anche le 7 e in questo giro di Italia e in questo giro di Italia ci diciamo la prossima